Sarà allestita presso il condominio Sole Mare a Torretti di Fano in via Cappellini al numero 12. È un'iniziativa che si sostanzia in un tuffo nel passato, negli anni 70, ed è un'iniziativa ideata e poi animata nella sua concretezza dalla professoressa Sgreccia che adesso può illustrare meglio un po' i dettagli di questa manifestazione che ci riporterà con i ricordi e con il pensiero a un periodo bello della nostra vita ed importante. Ecco, professoressa, lei ha detto non siamo turisti morghi e fuggi perché amiamo Fano. Amiamo Fano, amiamo Torrette che è la sede delle nostre vacanze da sempre. Quindi i ricordi vanno molto indietro nel tempo e soprattutto hanno un apice negli anni 70 perché sono gli anni della nostra gioventù, quindi della spensieratezza, anche se sappiamo che d'altro canto sono stati identificati come gli anni di piombo. Quindi che cosa è successo? Che i proprietari di vari appartamenti hanno aperto garage e sono riandati in soffitta per cercare un po' vecchi oggetti? Ciò che avevamo accumulato negli anni perché noi siamo qui dagli anni 60 e quindi abbiamo vissuto un po' tutte le fasi di Torrette, le trasformazioni e adesso le continueremo anche con i nostri figli che sono qua. Uno dei miei figli è nato proprio a Fano e ci piacerebbe che Torrette ritrovasse un po' quell'aspetto che è un po' perso perché c'erano dei locali una volta, adesso non ci sono più per una certa generazione, sono per i bambini ma per i ragazzi adulti un po' di meno e quindi vorremmo che vivessero questa atmosfera così come ce la ricordiamo noi con quell'entusiasmo con cui venivamo qui a passare le nostre vacanze e con i ricordi che ci portavamo dalla città.